Allora ragazzi Praticamente sto facendo una partita normale con Massi e Corrado A un certo punto Vedo la crepa Tanto per tanto succede ogni 3 minuti Ma praticamente questa crepa Ha durato più Cioè ha durato un sacco A un certo punto mi giro E vedo Adesso ragazzi Vanno da rettare il replay Ero qui E praticamente Guardate la crepa Qui sopra Guardate Vi faccio vedere Guardate qui sopra Guardate E poi Tutto di un bote Guardate Guardate Compara Ragazzi Like Per questa roba epica Condividetela con tutti Mi raccomando Guardate 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 Guardate